Le stragi di Capace e Via D'Amelio, gli omicidi dei commissari Nini Cassara e Boris Giuliano, sono alcuni dei momenti della storia del Novecento, rappresentati nei pannelli che fanno parte della mostra fotografica nazionale itinerante della Polizia di Stato. Frammenti di storia, l'Italia attraverso le impronte e le immagini, i sopralluoghi della Polizia scientifica, che con la disponibilità dell'amministrazione comunale e della locale Proloco, è stata allestita all'interno del Palazzo Moncada. Una mostra inaugurata in presenza delle autorità a lunedì 21 marzo, che racconta il lavoro della Polizia scientifica, esposte anche alcune uniformi storiche e dei mezzi degli anni Sessanta. Un'iniziativa che era stata anticipata dal questore Emanuele Ricifari in conferenza stampa, insieme al suo portavoce vicequestore Francesco Bandiere, che rimarrà aperta fino al 28 marzo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30. Verranno coinvolti anche gli studenti della città, alcuni di loro arriveranno infatti a bordo di un pullman della Polizia di Stato. Si tratta di uno degli eventi di prossimità e che precede il 170esimo anniversario della Fondazione della Polizia. Entro il mese di aprile, inoltre, verrà pubblicato un volume dedicato alla storia della questura di Caltanissetta, scritto dal responsabile dell'ufficio comunicazione, il sostituto commissario, Salvatore Falzone. È un percorso che dura 120 anni, comincia nel 1902 e si conclude e prosegue ancora oggi. Tra l'altro non è soltanto un percorso attraverso i fatti di cronaca, i fatti delittuosi più importanti, ma è un percorso che attraversa la storia sociale del Paese, perché la Polizia scientifica opera sì nelle investigazioni, ma opera sia nelle investigazioni criminali che nelle investigazioni legate a cataclismi, a catastrofi, a momenti difficili. Pensiamo solamente all'attività di identificazione successiva, per esempio, da ultimo, purtroppo, al terremoto di Amatrice o alle repertazioni in occasione di naufragi o di disastri aviatori.